Credo che dal lunedì 22 renderemo facoltativo, quindi in pratica fra una settimana, facoltativo l'uso della mascherina all'esterno. Rimarrà obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, nei locali privi di areazione, dove vi sono assembramenti. Facoltativo significa che è sempre bene continuare a indossare la mascherina, anche quando all'esterno dovessero determinarsi affollamenti particolari, anche quando si va in un parco e magari c'è un assembramento. Io credo che sia un motivo ragionevole di prudenza, anche quando, ripeto, dal lunedì 22 non ci sarà l'obbligo di avere la mascherina anche all'esterno, anche in pubblico, mantenere comunque la mascherina. Avremo la possibilità di respirare un po', è evidente che ci avviciniamo al pieno dell'estate, e quindi diventa complicato anche mantenere la mascherina, ma se ce la facciamo a reggere, anche quando sarà facoltativo l'uso della mascherina, usiamola la mascherina. E comunque portiamola sempre con noi, perché si può determinare una situazione, ripeto, di assembramento, che consiglierà di indossare la mascherina, che rimane obbligatoria nei locali chiusi.